E Facebook tutti a dir che ti devi lavar le mani, 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 va Non serve il virus corona, serve l'educazione Sono in quarantena e mo' per tutto il giorno Resto con mia moglie ma che tu è marona In assente mercato mo' e tutto mo' Stare solo una bottiglia di birra corona Questa è la situazione, non funziona Basta fare un pochino d'attenzione Niente parito, stiamo tranquilli Dai, 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 dai Ciao